Comunicazione a messaggi AMQP con RabbitMQ. Ciao, io sono Michele e oggi vediamo lo scambio di messaggi tra applicazioni con il protocollo AMQP. In un'architettura distribuita e in particolare a microservizi, le comunicazioni sincrone con il protocollo HTTP non sono proprio il massimo, perché se creiamo lunghe catene di comunicazioni dove un microservizio chiama un altro, chiama un altro, chiama un altro in questo modo, andiamo a creare una dipendenza molto stretta tra un servizio e l'altro e nel caso di problemi di uno tutto il meccanismo, tutta la nostra transazione di business ne risentirebbe e sarebbe impattata da eventuali problemi. È per questo che in questo genere di architetture si preferisce uno scambio di comunicazioni asincrono basato su messaggi dove il protocollo AMQP fa da padrone e noi andiamo a vedere un'implementazione con RabbitMQ. Prima di entrare nel vivo nel codice nell'ambiente di sviluppo però facciamo un attimo un disegnetto per capire meglio il contesto architetturale perché vogliamo evitare l'HTTP e cosa invece ce ne facciamo di messaggi e di alcuni benefici. Allora diciamo siamo in un contesto di un'architettura distribuita dove questi cerchi dovrebbero simulare tanti nostri microservizi all'interno del nostro cluster dove andiamo a fare comunicazione. Allora se facciamo una chiamata HTTP, una catena di chiamate HTTP sincrone in questo modo, cosa succede? Che una richiesta utente che viene, vabbè, magari passa attraverso un API gateway, che arriva e chiama questo microservizio che a sua volta ha bisogno del B, che a sua volta ha bisogno del C, nel caso ci fosse per esempio delle alte latenze di comunicazione qui, tutta la catena di risposta ne risentirebbe andando quindi a inficiare i tempi di risposta dell'applicazione nei confronti dell'utente o magari in particolare comunque a tenere impegnati all'interno delle mie risorse CPU, magari dei socket di rete, una connessione della RAM, dei thread, affinché questa comunicazione è viva. Per evitare questo genere di sprechi, quindi diciamo un uso poco efficace o efficiente di CPU in termini di thread che andiamo a tenere occupati, RAM, socket e così via, in generale rete, ok? Se invece adottassimo una comunicazione a messaggi avremo un discorso di questo tipo. Diciamo che abbiamo il microservizio X e Y e Z. Andiamo a fare una richiesta, arriva, questa qui manda un messaggio, questo dovrebbe essere una busta, e sa che prima o poi riceverà in maniera asincrona, la mettiamo così tratteggiato, sempre un messaggio indietro di risposta, perché magari a sua volta questo ha bisogno di questo e questo ha bisogno di questo, così. Quindi per comporre X, per comporre la risposta che ci arriva da qui, per dare indietro la risposta, X ha bisogno di Y e gli manda un messaggio e sa che in maniera asincrona riceverà una risposta e può liberare le risorse, può liberare i thread e così via, perché ci sono altri meccanismi con cui rimarrà in ascolto e verrà notificato. Allo stesso modo, Y sa che per rispondere alla risposta alla domanda di X ha bisogno di Z e gli manderà un messaggio e riceverà indietro un messaggio di risposta in maniera asincrona. Questa è una comunicazione basata su messaggi che evita molti degli effetti collaterali, in particolare appunto la catena, che mi tiene impegnata a tutti i servizi coinvolti finché la risposta completa non è stata creata. Così se, diciamo, Z ha un problema, X comunque può proseguire a lavorare e a utilizzare le risorse per fare altri thread e così via. Altri meccanismi dove io posso utilizzare la comunicazione basata su messaggi è quando un microservizio, per esempio il microservizio 1, della gestione degli articoli, del catalogo articoli di un e-commerce, vuole notificare altri microservizi che, per esempio, sono cambiati degli attributi di un articolo, per esempio un prezzo. Questo non farà tante chiamate, le vogliamo evitare, tante chiamate HTTP, che ne so, ai vari basket, ai vari carrelli, al microservizio che gestisce i carrelli degli utenti, ok, per aggiornare tutti i prezzi, oppure, che ne so, un microservizio di reportistica che gestisce l'andamento e servirà a fare analisi di storico dei prezzi. Non vogliamo fare una serie di chiamate HTTP sincroni in questa maniera, anche perché per ogni nuovo microservizio che va ad aggiungersi, inventiamoci, che ne so, la Z, dovrei modificare comunque il microservizio articoli per andare ad aggiungere una chiamata. Invece, quello che possiamo fare è fare una comunicazione basata su eventi, dove il mio microservizio articoli, chiamiamolo A, va a notificare, quindi io faccio così il simbolo che c'è successo un evento, e va a depositare un messaggio in un canale, immaginiamo in un pipe, in un tubo, dove alla fine di questo tubo ci sono tanti sottoscrittori. È come l'abbonamento al Topolino. La Disney pubblica il nuovo numero di Topolino e gli abbonati, Tizio, Caio e Sempronio, riceveranno il nuovo numero, perché c'è un broker, c'è chi lo stampa, c'è un broker che lo consegna, e ci sono poi i postini che arriva a destinazione. Questo mi permette di avere il microservizio articoli, che è completamente ignaro di chi è abbonato al suo servizio e chi vuole sapere le notifiche, e non ho bisogno di modificarlo quando arriva un nuovo attore che vuole sapere anche lui gli aggiornamenti degli attributi, degli articoli, dei prezzi e così via. Inoltre, un messaggio è in modalità Set and Forget, cioè io posso mandare un messaggio qui e ritornare subito. Quindi il mio codice manda il messaggio e può proseguire subito di nuovo a fare quello che doveva fare. Il suo unico compito era consegnare il messaggio al broker. Nelle righe di codice che adesso stiamo per andare a vedere, il broker, quindi il pezzo di software, il middleware, che ci fa da smista i messaggi con funzionalità anche più o meno avanzate, si possono fare tantissime cose ed elevate prestazioni, si chiama RabbitMQ. Quindi, fine della teoria, andiamo nell'ambiente di sviluppo. Eccoci qui nell'ambiente di sviluppo dove andiamo a commentare, a vedere il codice per questo esempio di introduttivo a RabbitMQ. Quindi, innanzitutto, la prima cosa che ci serve è far partire RabbitMQ stesso. Per semplicità, io lo faccio partire in formato containerizzato con Docker. Mi sono salvato qui l'istruzione che utilizzo con i parametri che mi interessano, in particolare l'esposizione della porte, la 5672 è quella in ascolto dove RabbitRust è in ascolto sui messaggi, la 15672 è quella del portale di gestione che possiamo consultare con il browser. Dopodiché configuro un volume RabbitMVol che viene mappato su questo path dentro il container dove Rabbit si aspetta di poter lavorare con i suoi file. Uso l'immagine 3812 con il portale di management incluso. Quindi prendo, copio e mando in esecuzione. Bene, il container è partito, facciamo la controprova. Apro un'istanza pulita del browser che vediamo qui. Faccio localhost, 2 punti, 2 punti, 1, 5, 6, 7, 2. Benissimo, mi risponde Rabbit. Non ho fatto configurazioni particolari, quindi l'utente e il pasto sono guest guest. Ecco che io posso entrare e questo è il pannello di configurazione, o meglio di consultazione. Bene, Rabbit c'è, andiamo a vedere il nostro codice. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo bisogno di un publisher o di chi manda il messaggio, di chi pubblica, e di un receiver. Prima di entrare nel codice facciamo partire i programmi, così li vediamo in esecuzione e vediamo un po' il giro del fumo, come funzionano e come dialogano i componenti tra di loro. Qui sulla sinistra ho il programma, sono pronto con la riga di comando per far partire il programma che invia, .net run, il mio produttore. La prima cosa che mi chiede è la routing key, cioè quindi la strada dove vogliamo pubblicare, una strada di canale dove vogliamo pubblicare questi messaggi. E io do questo, dichiaro la routing key frutta. Dentro comincio a pubblicare messaggi, per esempio scrivo banana1. Ho avviato il messaggio. Cosa succede? Che dall'altra parte di Rabbit, negli exchange non vedo molto, poi vedremo un attimo cosa sono gli exchange, ma diciamo che sono i punti di ingresso dei messaggi. I produttori non pubblicano mai direttamente i messaggi su una coda, ma li pubblicano in dei punti di ingresso che si chiamano gli exchange, che sono degli oggetti a cui si possono applicare delle regole per fare un po' di logica sulla distribuzione dei messaggi. Quindi diciamo io non pubblico su una coda, ma pubblico su un exchange che a sua volta potrebbe pubblicare su una o più code. Quindi io ho mandato sull'exchange di default, perché non gli ho dato un nome particolare, poi vediamo, ho solo dato un attributo ai messaggi, e ho detto che la routine key è frutta. Ma non è successo niente perché appunto le code sono vuote, perché non ci sono consumatori. Quindi faccio partire un consumatore, .net run, che è un'istanza della mia applicazione receive, che si mette in ascolto e io dico il nome della coda è frutta, perché voglio prendere i messaggi da questa routine key. Che cosa succede? Allora che adesso qui su Rabbit si è creata questa coda, frutta, che adesso è pronta per ricevere i messaggi. L'exchange manderà messaggi, l'exchange di default su cui io pubblico i miei messaggi a tema frutta, gireranno, grazie alla routine key, i messaggi qui dentro e li vedremo che il ricevitore li prende e li stampa. Quindi io scrivo fragola e ho received fragola immediatamente di qua. Facciamo pesca e melone. Abbiamo i messaggi qui. Cosa succede? Che diciamo che c'è un malfunzionamento del receiver, o c'è parecchio carico, l'ultimo messaggio che ho mandato richiedeva un'elaborazione pesante, simuliamo un'interruzione dei problemi in qualcosa che non va. Quindi io posso continuare a scrivere banana 2, fragola 2, il mio produttore può proseguire. E quello che vedo, e adesso qui si aggiorna ogni 5 secondi da solo, eccoli qua, ci sono due messaggi che l'exchange ha depositato nella coda frutta, perché la routine key ha trovato una destinazione, che era stata creata da un receiver, ed eccola qui. Ho dentro due messaggi. Se il consumatore si riprende, .net run, li va a scodare, e dico frutta, li va a scodare immediatamente uno dietro l'altro. E quindi da adesso tornando qua, aspettando qualche secondo di refresh, non ci sono più messaggi nella coda, abbiamo scodato tutto. Per complicarci un pochino la vita, possiamo aprire un altro receiver, diamo .net run, e lo iscriviamo sulla stessa coda, lo mettiamo in ascolto sulla stessa coda. Vediamo già dei cambiamenti all'interno di Rabbit, tra pochi secondi, dove vediamo che per la coda frutta, abbiamo due consumer. Come si spartiranno i messaggi? Il comportamento di default di Rabbit è un round robin, quindi arriverà un messaggio prima da una parte e poi da un'altra, net di configurazioni particolari. Siamo proprio con la configurazione più vanilla in assoluto. Quindi dico, che ne so, vanilla se lo prende il primo. E poi dico anguria, arriva sul secondo. Dico mela, ritorna sul primo. Pera, ritorna sul secondo. E siamo così. Andiamo avanti e indietro. Vediamo anche che nel frattempo l'interfaccia si era aggiornata per segnalarci un message rate di 0,2 messaggi ogni secondo. E questo è quello che succede quando abbiamo più consumatori della stessa coda. Ok, vediamo ora il codice, fermo tutto, che ha implementato questo sender e questo receiver. Allora, qui partiamo dal sender, ok? Ho utilizzato il pacchetto nugget RabbitMT, RabbitMQClient, RabbitMQClient, Package Reference, versione 640. E ho fatto lo using qui dentro. Vediamo come funziona. Tramite la classe Connection Factory vado a crearmi un'istanza di questa, di questa classe, che mi permette di creare connessioni al mio Rabbit. gli dico che voglio una connessione per il mio hostname, che in questo caso risponde a localhost, perché sta girando sul mio PC, nonostante sia dockerizzato. Creo una connessione e mi creo un canale di comunicazione. Una volta impostata la comunicazione con il Rabbit, vado a chiedere la routine key e poi entro in un ciclo infinito dove sostanzialmente vado a chiedere continuamente il messaggio da sparare. Quello che faccio è che lo converto in un array di byte, in codifica utf8 e poi con l'istruzione Basic Publish faccio il Publish sull'exchange di default con la routine key chiesta all'inizio, usavamo frutta, per esempio, oppure verdura. Non vado a mettere proprietà aggiuntive sulla busta, sull'esterno, sull'envelop del mio messaggio. Utilizzo tutte, appunto, le configurazioni di default, non voglio addentrarmi in argomenti avanzati e appiccico il body, quindi il contenuto del messaggio, dentro la busta che è appunto la scritta che ho letto dall'input utente e dopodiché scrivo Sandy. Quindi tutto il cuore sostanzialmente di Rabbit, vero e proprio, è appunto la creazione della connessione, l'apertura della connessione e poi l'encoding del messaggio e l'invio con Basic Publish. Dalla parte del receiver sempre pacchetto NuGet, RabbitMQ Client, la libreria RabbitMQ, la metto negli using, creo la connessione sempre con il cluster che gira in localhost, chiedo la coda che voglio creare, quindi il consumatore, se non esiste, appunto la crea, questa coda con i parametri tutti di default, il nome appena letto dall'input e tutto il resto a false, cioè non vogliamo che questa coda resista a un, sopravviva a un revvio del broker, che ci possano essere più sottoscrittori, più consumatori e così via. In particolare l'auto delete della coda quando tutti i sottoscrittori se ne sono andati è a false, potrebbe essere anche questo un parametro interessante, altre informazioni aggiuntive al momento non ne utilizziamo. Il consumer che cosa deve fare? Dichiaro un consumatore basic e mi iscrivo all'evento received le mie righe di codice che voglio eseguire quando viene segnalato a questo consumatore che c'è perché è presente un nuovo messaggio. Prendo il body in formato array, lo codifico dall'utf8 qui c'è una mia una mia prova se il messaggio contiene il carattere 1 simulo un'elaborazione pesante attendendo per 10 secondi questo può essere utile per fare alcuni esperimenti e capire eventualmente come distribuire messaggi diciamo pesanti tra più consumatori però non è niente di particolare di Rabbit&Q stesso e scrivo che ho ricevuto quindi questo è quello che io vado a fare all'evento received del consumer lo dichiaro qui una volta che ho configurato il mio consumer nel mio canale lo vado ad abbinarlo nel mio canale dico che lo aggancio alla coda con il nome chiesto prima do l'auto acknowledge quindi non voglio gestire io l'acknowledge del messaggio quando ho finito l'elaborazione ma ci pensa la libreria stessa a dire che il messaggio è stato elaborato in scenari un po' più delicati dove voglio avere il pieno controllo posso essere io stesso a dire ok messaggio elaborato chiudi distruggilo dalla coda oppure tienilo lì perché ho avuto un errore e il consumer appunto vado a dare le regole che ho appena definito qui ok come mi voglio comportare quando riceve un messaggio dal canale fine console write line e read line per rimanere in attesa bene per oggi con i messaggi e rabbitmq ci fermiamo qui abbiamo appena grattato la superficie e abbiamo visto un'implementazione molto base di uno scambio di messaggi attraverso un exchange abbiamo pubblicato dei messaggi e abbiamo visto dei consumatori che erano interessati e si sono andavano a scodare e a consumare questo messaggio ci sono tante altre cose appunto come abbiamo visto dalla parte teorica introduttiva che possiamo fare seguiranno altri video se intanto questo video ti è piaciuto e hai imparato qualcosa metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle nuove uscite ciao ciao